Se non vuoi essere contro te stesso, se non vuoi farti del male, se non vuoi essere una di quelle persone indifferenti che sanno dei problemi che ci sono sul fronte dei diritti civili ma fa finta di niente pensando che altri se ne devono occupare, è bene, è arrivato il tuo momento, iscriviti a certi diritti e forse riusciamo insieme a migliorare questo mondo disgraziato. Grazie